Senatore Consiglio, anche quest'anno la Lega Nord di Bergamo organizza la Bergen Frecce, il 27, 28, 29 ad Albino, quali gli ospiti? Noi oramai è diventato un appuntamento importante, importantissimo per chiudere l'annata politica e quindi avremo il 27 Salvini, Centinaio, ci sarà Borghi, verrà anche lui a parlargli un po' di questa flat tax del no euro, ci sarà Calderoli, Bossi il 28 e il 29 chiuderemo con Maroni. Sono tre giorni, tre giorni incastrati durante le feste, feste che però non ci distraggono minimamente da quelle che sono le attività politiche, anzi crediamo di riempire un vuoto dove gli altri partiti si abbuffano con il panettone e magari con gli struffoli, noi invece faremo una sana politica ancora a botte di salamella e di buoni interventi. Lì c'è sempre stato in questi anni una grandissima affluenza, quest'anno poi con una Lega che viaggia dal 13 al 14% crediamo proprio di interpretare bene quello che è il sentimento dei militanti e non solo.